L'idea è nata da una discussione che abbiamo fatto con Massimo Minini, io e Massimo Minini, appunto parlando della possibilità di mettere insieme e far lavorare insieme Gabriele Basilico e Dan Graham. Minini mi aveva detto subito, non so cosa potete fare insieme, io sono interessato che voi due con la vostra diversità lavorate sulla mia città e quindi potreste fare un progetto insieme oppure ognuno di voi lavora per conto proprio di confrontate oppure ognuno fa quello che vuole e poi vengono messe le cose vicine. I take photography for fun, it's a hobby. I always use inexpensive cameras. Maybe it's like drawing for artists. I never went to art school, but maybe photographs are like drawing. They're very fast and often there are situations that I use later in my art. Entrambi sono molto interessati allo spazio urbano e in particolare sono molto interessati alla dimensione, diciamo così, della periferia, dei soborghi, della città. Perciò questo diventa il reale. e in realtà come dire un po' il terreno comune su cui loro si possono confrontare. E' da lì che è partito il dialogo e lo stiamo sviluppando. Progetto Tera Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info